Cari amiche e cari amici, stiamo parlando della diversità tra filosofia e religione, in particolare dell'influsso che ha avuto sulla filosofia l'espansione del cristianesimo. Abbiamo visto che il cristianesimo ha la meglio rispetto alla filosofia storica, abbiamo visto che c'è stato un determinato momento in cui stoicismo e cristianesimo ebbero una sorta di rivalità, poteva affermarsi l'una filosofia, lo stoicismo, o l'altra religione, il cristianesimo, ebbe la meglio il cristianesimo, si affermò il cristianesimo. Nello scorrere dei secoli, la filosofia si ridusse ad essere ancella della religione. Ci fu un motto famosissimo di Pier Damiani nell'undicesimo secolo, e questo Pier Damiani era un teologo cristiano, e fu lui proprio che parlò per la prima volta della filosofia come ancella della religione. Quindi la filosofia doveva avere la funzione di aiutare a chiarire dal punto di vista razionale la religione. Questo Pier Damiani era un teologo cristiano, vicino alle posizioni della Chiesa Cattolica, del papato, e sottolineò con questa frase proprio la sottomissione della ragione alla fede nella dottrina cristiana. Dunque, alla domanda esiste una filosofia cristiana, la risposta rimane un po' a cavallo tra sì e no, perché esiste, certo, ci saranno autori come appunto Sant'Agostino, Sant'Omaso, Pasquale, i tre principali, ma anche lo stesso per esempio Kant credeva, era un credente, era un cristiano, e dunque esiste una filosofia cristiana, la risposta rimane un po' sfumata a cavallo tra il sì e il no, perché? Perché le somme verità nel cristianesimo, come tutte le grandi religioni monoteistiche, sono verità rivelate, ossia trasmesse dalla parola di un profeta, di un messia, e di conseguenza nel cristianesimo sono opera della rivelazione di Gesù, del figlio di Dio. Le verità rivelate agiscono in quanto tali e colui che annuncia queste verità rivelate, che può essere un profeta o lo stesso figlio di Dio, come è convinzione della religione cristiana, colui che annuncia e rivela queste verità si appella alla fede e sembrerebbe dunque che non ci sia più posto per la filosofia nell'ambito del cristianesimo, perché l'essenziale è deciso per fede e la dottrina della salvezza sarà sempre salvezza tramite Dio, tramite altro, e non dunque, come abbiamo visto nei video precedenti, attraverso le proprie forze, la propria capacità, il proprio ragionamento. Anche la parola di Gesù, esattamente come per le leggende tramandate oralmente, o anche per le fiabbe, ecco che, dicevo, la parola di Gesù si rivolge a tutti, però è necessario uno sforzo di riflessione per capirne il senso più profondo. Ecco qui il nuovo compito che si attribuisce alla filosofia ancella della religione. Attenzione, non si tratta solo di leggere le scritture, bisogna comprendere, ad esempio, dal punto di vista filosofico, la creazione. Nel cristianesimo si parla di universo creato da Dio, di mondo creato da Dio, e dunque fare delle riflessioni sulla bontà, la bellezza del mondo, dell'opere, che non sono altro che opere di Dio, tutta la creazione. E la creazione può dimostrare, attraverso una speculazione filosofica, l'esistenza di Dio. E questa sarà la convinzione dei filosofi cristiani. E questo aspetto dell'attività della filosofia cristiana diventerà in particolare fondamentale e crescente a partire dal XIII secolo, da San Tommaso d'Aquillo. E da quel momento si cominceranno a elaborare quelle che i teologi definiscono le prove dell'esistenza di Dio. Soprattutto a partire proprio dall'osservazione del mondo, dalla perfezione del mondo. Si vuole dimostrare l'esistenza di un essere perfettissimo. Ancora quando ero a catechismo, quando ero piccolo, io studiavo a memoria il catechismo, si imparavano e c'era la prima domanda chi è Dio? Dio è l'essere perfettissimo, creatore e signore del cielo e della terra. Ancora me la ricordo. Ecco, dunque le prove dell'esistenza di Dio e soprattutto le prove che a partire dalla perfezione del mondo vogliono dimostrare l'esistenza di un essere perfetto che lo ha creato, di un creatore intelligente di tutti questi meravigliosi. Dunque non si può parlare in realtà di filosofia cristiana in senso proprio. È un modo, una nuova modalità di interpretare le scritture, di leggere la natura per trarne degli insegnamenti divini. Però ecco, la dottrina della salvezza non è più appannaggio della filosofia. Anche se in linea di principio non ci sono contraddizioni, ma le verità rivelate dalla fede hanno il primato sulle verità della ragione. Dunque, anche se a pergameano abbiamo visto che andiamo verso la fine intorno all'anno 1000 che conia questa frase, la filosofia è ancella della religione. Però in realtà questo ruolo di ancella della religione comincia a farlo dai primi secoli. San Tommaso nel XIII secolo e San Tommaso dicevo in un video precedente che il tuomismo è ancora la religione ufficiale della Chiesa. San Tommaso ha un'importanza fondamentale per tutta la speculazione filosofica cristiana, cattolica in particolare, ma cristiana in generale. C'era un filosofo, Averroè, un filosofo che appartenava alla tradizione islamica, alla cultura araba, ed era stato inizialmente vietato dalla Chiesa Cattolica. E' interessante perché San Tommaso è un difensore di Averroè e il discorso che fa, che avrà conseguenze culturali enormi su tutti i secoli successivi, anche sullo stesso rinascimento. San Tommaso che dice che Averroè sosteneva che si può esaltare la ragione in un certo senso. San Tommaso dice che non dobbiamo avere paura della ragione, perché anche la ragione è un dono di Dio. Va bene? Quindi non dobbiamo temere la speculazione filosofica, perché anche attraverso la ragione, attraverso la speculazione filosofica, essendo questo un dono di Dio, noi possiamo arrivare a Dio. Solo che c'è un punto chiave qui che bisogna ben capire, perché San Tommaso conclude questo suo ragionamento dicendo e quando c'è un'indecisione tra ragione e fede, come bisognerà comportarsi? Qui mi invito a vedere proprio un video che ho, Cante e Tommaso mi sembrano se i titoli, è un video esclusivamente su questo argomento, fede e ragione. Tornando a San Tommaso, San Tommaso dunque dice non dobbiamo temere la ragione, non dobbiamo avere paura, perché anche la ragione è un dono di Dio, non dobbiamo avere paura della speculazione filosofica, ma se c'è un dubbio tra fede e ragione, siccome la fede si fonda poi su una verità rivelata e quindi sulla parola di Dio, bisogna dare la precedenza alla parola di Dio, sarà quella sempre ad avere ragione. Ecco, sentivo Severino anche in una disputa che Severino ha avuto con la Chiesa Cattolica che giustamente parlava di precomprensione, lui diceva però partire dal fatto la precomprensione per capirci amici significa pregiudizio potremmo dire un po', come sinonimo, cioè avere già delle certezze precedenti a un determinato ragionamento, quella è una precomprensione. E Severino diceva si parte viziando un discorso filosofico con una precomprensione del genere, cioè partire dal presupposto che nell'indecisione la fede dice all'ultima parola sulla filosofia perché è verità rivelata. in questo senso nonostante che nel primo video vi sconsiglio la lettura della filosofia che normalmente consigliano come approccio alla filosofia che è quella della storia della filosofia di Bertrand Russell, però indubbiamente in questa ragione Bertrand Russell nell'introduzione a questa sua filosofia perché dice dice proprio che il cristianesimo grazie a questo che a causa o meglio di questo che Severino chiama una precomprensione non potrà mai raggiungere la libertà di pensiero che avevano gli antichi greci perché a un certo punto quando si comincia con Socrate e tutti i filosofi successivi ma anche precedenti a Socrate però da Socrate cominciamo a sapere delle cose Socrate stesso non ha mai scritto nulla però Platone scrive di Socrate ci dà tantissime informazioni quindi a quel momento lì cominciamo ad essere aiutati da documenti scritti e anche se molti purtroppo sono andati persi però ecco ci dice Bertrand Russell e gli antichi greci erano una libertà di pensiero che non si potrà mai avere in ambito cristiano proprio per questa a causa di questa precompunzione perché si è convinti che c'è una verità rivelata e quindi è un e che ha la verità rivelata bisogna dare la precedenza e quindi questa è una enorme per comprensione in effetti ha ragione in questo caso Bertrand Russell poi c'è un'altra caratteristica legata sempre a questo confronto tra fede e ragione la filosofia diventerà scolastica si parlerà proprio di filosofia scolastica che vuol dire una disciplina scolastica non più una saggezza una disciplina di vita e questo è fondamentale noi pensiamo che si è ridotta la filosofia oggi poi tra l'altro anche per tutte queste filosofie oggi le due divisioni fondamentali sono analitica e continentale l'analitica è quella di cultura anglosassone americana molti autori e continentale è questa europea la maggiore divisione della filosofia contemporanea soprattutto la filosofia legata alla cultura anglosassone americana per esempio si è totalmente distaccato da un discorso di metafisica cosa che non è accaduta è accaduta parzialmente diciamo nella filosofia continentale basta pensare a Severino la filosofia di Severino che è molto complessa si riassume in realtà in una frase gli enti sono eterni quindi è proprio un concentrato di metafisica gli enti sono eterni e tornando comunque alla scolastica la filosofia di verità ancella della teologia quindi serve a spiegare meglio l'utilità è quella di spiegare meglio le verità legate alla lettura del testo sacro resta vincolata da queste precomprensioni appunto legate al testo sacro che in ogni caso ha la meglio sulla filosofia e poi appunto dicevo diventerà scolastica diventerà non più un esercizio di vita una pratica di vita le antiche scuole lo accennavo prima o poi farò questa playlist dedicata a Piero Adò che dedica dei saggi stupendi da questo punto di vista proprio su queste riflessioni che la filosofia antica era qualcosa di molto pratico il filosofo nell'antichità è un po' da considerarsi come il monaco di oggi non come il professor universitario il professor universitario sta lì va bene si entra poi in Italia è schifoso sappiamo tutti le baronie i colletti bianchi le raccomandazioni tutte le schifezze che ci stanno quindi in Italia ancora si hanno le cattedre per via o sessuale o di conoscenza o cose del genere va bene comunque questo è un altro discorso adesso neanche mi interessa di parlare di queste schifezze però la cosa ancora più grave perché per me è la cosa ancora più grave è che la filosofia poi si è ridotta a una semplice scolastica rimasta scolastica cioè non è più una pratica di vita è lo studio di concetti di costrutti metafisici grandi costruzioni di pensiero grandi elaborazioni del pensiero che restano solo a livello teorico non c'è più una pratica non c'è un'università al mondo dove la filosofia sia un insegnamento pratico in occidente probabilmente in oriente ci staranno le scuole di filosofia che sono Asheram dove si pratica la meditazione e lì questa tradizione è rimasta ancora via sotto questo ma in occidente no da quando è cominciato questo discorso della scolastica la filosofia da prima dunque ha avuto un ruolo subatterno rispetto alla teologia e alla religione e poi è stata insegnata solamente teoricamente e che parlava con un maestro di vita quando parlate con un filosofo quando sentite parlare un insegnante di filosofia dell'università di oggi parlate con uno che sa un sacco di cose va bene tutta una coscienza intellettuale poi che tra questi ci sia qualcuno io ho un caro amico per esempio che insegna filosofia che realmente è un filosofo anche nella pratica di vita ma queste sono scelte individuali un po' come la scuola in generale che è abbastanza penosa però poi ci stanno degli insegnanti su cui poi si regge la scuola bravi che però non sono aiutati dall'istituzione agiscono così individualmente e così ecco il cristianesimo il cristianesimo che contribuisce a questa incrinatura alla filosofia che era qualcosa di pratico per cui anticamente i filosofi vivivano in comunità applicavano nella loro vita la teoria filosofica invece si riduce a un apprendimento che come oggi esclusivamente è discorsivo cioè che appartiene solo all'ordine del discorso eh contrario dunque a quella che era l'impostazione iniziale delle grandi scuole dell'antica Grecia e la dottrina della salvezza fondata sulla fede e sulla rivelazione non appartiene più al dominio dunque della ragione eh e è normale che arrivato a quel punto sfugga al dominio della filosofia e la filosofia si riduce al chiarimento di concetti di commenti eruditi di teologi ad esempio e questo pezzo gli rimarrà non legato al cristianesimo ma legato a una pura speculazione filosofica concettuale e teorica senza alcun fondamento pratico questo riguardo alla teoria poi seguendo sempre la nostra traccia di teoria etica saggezza salvezza e adesso vediamo l'evoluzione dal punto di vista dell'etica dopo la della filosofia dopo l'espansione del cristianesimo ecco ci si potrebbe ci sarebbe potuto aspettare ad esempio sarebbe potuto andare in questo modo cioè che il fatto che la religione a un certo punto acquista una sua supremazia rispetto alla filosofia che acquisisce un ruolo indubbiamente subalterno rispetto alla religione e dunque ci si potrebbe aspettare una regressione dal punto di vista dell'etica e invece sotto molti aspetti in realtà è accaduto il contrario perché il cristianesimo sul piano dell'etica della morale sarà portatore di nuove idee che non appartenevano alla tradizione greca o quantomeno non erano radicate nell'essenza proprio della della tradizione greca il mondo greco era un mondo aristocratico abbiamo detto che piaceva molto a Nietzsche proprio per il fatto che era aristocratico era un universo piramidale aristossi i migliori l'aristocrazia il mondo dei migliori occupavano posizioni superiori i meno eccellenti avevano un rango minore inferiore e poi c'era anche quest'altro fatto nella polis greca era normale la schiavitù lo stesso Platone a un certo punto viene preso come schiavo adesso non sto qui a raccontarvi le vicissitudini chi vuole le può leggere per conto suo è molto interessante poi viene riconosciuto e liberato da un amico la schiavitù era normale e il cristianesimo da questo punto di vista dà un contributo enorme perché diffonde l'idea che poi si radicherà e diventerà anche nei diritti umani sarà trasposta cioè il fatto dell'uguaglianza tra gli uomini e la democrazia perché la democrazia nasce in Atene va bene e vivevano cioè già Platone disserta sulla democrazia in maniera incredibile ma quel tipo di democrazia era molto diversa da quella di oggi quel tipo di democrazia era relegata sempre non dava libertà di voto a tutti era sempre degli aristocratici che avevano possibilità di voto di dialogo e così via ma c'era la schiavitù c'erano i meteci c'erano gli schiavi le classi inferiori non avevano diritto di voto ma questo se pensiamo che le donne nel novecento qui in occidente hanno acquisito il diritto di voto ancora non avevano diritto di voto non è che possiamo pretendere tanto però ecco il cristianesimo diffonde un'idea nuova ossia l'umanità è una gli uomini sono tutti uguali in dignità attenzione perché questo si trovano se leggete Seneca le lettere all'ucilio vi ricordo che Seneca era uno stoico lo aveva accennato era il precettore dell'imperatore Nerone probabilmente se cliccate Seneca schiavitù leggerete dei brani interessantissimi perché anche Seneca scrive dei brani che sono anche poetici è molto bello il suo modo di scrivere in cui invita la riflessione e dice proprio che il cielo è di tutti gli uomini liberi e schiavi osservano le stesse stelle quindi c'era un concetto che era nell'aria perché vedete era anche nella filosofia storica però sarà il cristianesimo poi ad affermare in maniera categorica questo che diventerà un principio acquisito di tutto l'Occidente al punto che appunto sarà anche la politica lo stesso diritto si organizzerà poi su questo principio e anche i famosi diritti umani appunto i diritti internazionali e questa era una concezione inaudita questa dell'uguaglianza per per l'antichità e una visione del mondo di uguali con pari dignità tra tutti gli uomini è è proprio un'idea che si afferma grazie al cristianismo il libero arbitrio pure il libero arbitrio diventa il fondamento della morale è legato anche a questo che la nozione di uguale dignità di tutti gli esseri umani fa la prima apparizione perché le grandi cosmologie greche come abbiamo visto avevano come parametro di riferimento la natura il cosmos e dunque la natura ha una precisa scala gerarchica non esiste l'uguaglianza nella natura esiste il sole nel cosmos e i pianeti che gli aggirano intorno non è che sono tutti uguali no esiste la gerarchia dovunque nella natura c'è la gerarchia e la gerarchia non è ugualitaria per ogni categoria di essere la natura sfongia una gamma che va dalla eccellenza sublime alla massima mediocrità e tutti i doni della natura sono distribuiti in modo in uguale c'è una persona che nasce bella forte nel caso dell'occidente anche ricca oggi magari è un'altra persona che magari nasce brutta storpia povera e vabbè anche se la ricchezza la povertà adesso non è che appartengono alla natura però diciamo il fatto che una persona nasce sana bella prestante intelligente un'altra persona nasce storpia stupida e questo qui è dovuto alla natura che non è che fa discorsi di euguaglianza e nella terminologia morale dei greci la nozione di virtù e quindi di potenzialità da attuare era associata a questa di doni naturali di doni da mettere quello che noi parliamo tante volte abbiamo visto noi il dharma sul nostro canale il mondo greco era un mondo aristocratico c'era un discorso gerarchico che i greci vivevano come naturale perché perché il parametro era la natura la natura gerarchica e automaticamente le polis le città-stato greche sono gerarchiche e per i cristiani invece questo non è giusto inizia un ragionamento sull'etica sulla morale ho detto che uso come sinonimo perché etica viene da ethos che significa costume morale pure viene da moris che significa costume quindi li utilizzo come sinonimi ecco l'etica cristiana cambia e cambia perché non contano più le qualità in sé come era nella dimensione della visione dell'uomo classico greco soprattutto ma l'uso che se ne fa questo discorso di oggi di ah ma non è tanto quello ma l'uso che se ne fa è questo tipo di discorso che noi arriviamo ad applicare anche che ne so al computer alla tecnologia a un'arma da fuoco sì l'arma non è né buona né cattiva dipende da come la usi ecco questo è qui che fa parte proprio della cultura del linguaggio comune questo tipo di discorso si radica nel cristianismo vedete quanto è importante conoscere queste cose per comprendere noi stessi anche il nostro modo di percepire il nostro modo di ragionare ed ecco che quello che i filosofi definiscono il libero arbitrio non costituisce altro che l'etica che la morale perché un uomo è libero di agire in un modo o in un altro e la dignità di essere umani un'altra riflessione che viene in maniera massiccia attraverso il cristianesimo attraverso il concetto di a uguaglianza e quindi affermazioni poderose e quando la forza la bellezza l'intelligenza tutti i doni naturali ereditati dalla nascita sono delle qualità che sono indiscutibili ma non sono necessariamente qualità sul piano morale questo è il discorso che fa il cristianesimo se tu per esempio sei una donna bellissima ma diventi una prostituta e metti a servizio questa tua bellezza del corpo per un'attività peccaminosa ci dicono i cristiani dalla loro prospettiva e questo è qualcosa di ripugnante questo è qualcosa che va respinto e dunque ecco il concetto che i doni che abbiamo possano essere usati sia per il bene che per il male compreso la forza la bellezza l'intelligenza la memoria l'intelligenza può essere usata per costruire qualcosa che aiuti tutti gli uomini come per costruire delle armi di distruzione di massa e qui c'è la famosa parabola dei talenti che troviamo nel Vangelo e che suscita molte riflessioni di questo tipo e dunque ecco una rivoluzione morale possiamo parlare realmente del cristianesimo e rivoluzione morale e attenzione perché sarà il cattolicesimo sarà il papa che sarà il diffusore per secoli poi di questi valori per secoli quindi poi al di là delle scissioni successive c'è sta la 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 prima grande scisma con gli ortodossi che dopo il mille nel mille cinquantatre cinquantaquattro anzi nel rinascimento quello che i protestanti fino a quel periodo era il papa con lui quindi questi che se la prendono sempre il papa il papa la chiesa cattolica teni presente che la chiesa cattolica ha fatto anche questi quindi chi è d'accordo a un discorso di uguaglianza tra gli uomini sappia che è stata la chiesa cattolica poi a farsi portatrice di questi valori e a trasmettere e a conservarli qui in occidente poi si può essere anche i contrari e poi uno può dire no io previsco logica aristocratica a me di un uguaglianza non me ne frega niente però storicamente bisogna sapere che le cose sono andate in questo modo stessa cosa la dignità degli esseri umani che è all'affondamento della democrazia moderna quindi vediamo che sono discorsi strettamente legati con la politica anche con l'economia adesso il discorso sarebbe lungo molto lunghissimo e ancora oggi vediamo che le civiltà che non hanno conosciuto il cristianesimo hanno difficoltà ad esempio ad accettare la democrazia a volte ad accettare anche i diritti umani e così via bene amici un caro abbraccio a tutti al prossimo video Marco Cosmo